Se prima del 24 giugno sembrava essere ovunque nel mondo virtuale, da poche ore dopo il ballottaggio il suo record di presenze non è certo calato. Dalla conferenza a Palazzo dei Leoni la mattina seguente la vittoria, fino alla visita di ieri mattina all'Arcivescovato, passando per il Tribunale e ovviamente per il Palazzo Comunale dove si è ormai insediato, il neosindaco sembra voler stabilire da subito le regole del gioco. Dal Palazzo della Provincia, precisamente dalla stanza del sindaco metropolitano, la mattina seguente al ballottaggio il suo messaggio era stato chiaro, riorganizzazione di quello che non può essere più un orpello. E' seguita la cerimonia di proclamazione a sindaco a Palazzo Zanche, il primo atto di indirizzo approvato dalla giunta. Lo si aspettava dunque per il passaggio della fascia, ma il neosindaco, si è ben compreso in campagna elettorale, gioca sempre d'anticipo. Nel giorno dell'ufficiale scambio della fascia non ha certo perso tempo. Prima di mezzogiorno, raffissata per la cerimonia ufficiale, due gli appuntamenti in agenda. Prima l'arcivescovato, dove ha incontrato Monsignor Giovanni Acco, l'arcivescovo metropolitano, e il vescovo ausiliare eletto, Monsignor Cesare Di Pietro. Due ore di confronto su solidarietà, emergenza delle nuove povertà, al lavoro, aprendo le porte all'opportunità di fare rete, tra Palazzo Municipale e istituzione ecclesiastica. Poi dritto in tribunale, dove ad aspettarlo c'era il presidente della Corte d'Appello, Michele Galluccio, e del presidente dell'Ordine degli Avvocati, Vincenzo Ceraulo, per avviare subito l'iter per il nuovo tribunale di Messina, che ha definito come uno degli obiettivi principali del programma amministrativo. Infine, in piedi per lo scambio della fascia tricolore, la nomina dei consiglieri, con i quali ha ribadito, aspetta di parlare con colloqui individuali. Tre giorni dunque in cui ha già varcato la porta dei palazzi più importanti della città. Domani si ricomincia da Palazzo dei Leoni per l'insediamento come sindaco metropolitano, cariche e poteri che sembrano stargli molto a cuore e che difende già dagli altri contendenti.